Il fixing rappresenta quindi il prezzo di riferimento dell'oro cartaceo e dell'oro fisico all'ingrosso Comprare al fixing quantità più piccole di oro sotto forma di lingotti o placchette è praticamente impossibile Ma cosa incide sul prezzo dell'oro? Come per tutte le cose la quantità incide la lingottatura, cioè che formato è il lingotto Incidono le certificazioni, un lingotto con certificazione LBMA Cioè risponde ai massimi standard qualitativi che magari anche la certificazione RJC di oro etico E il Kinegram, un sistema brevettato di contraffazione Ovviamente costerà e varrà di più di un lingotto a parità di grammatura che non ha nulla di tutto questo E poi possono incidere i servizi Perché un conto è comprare in una botta sola un chilo di oro e portarselo a casa Un conto invece è poterlo comprare con piccoli versamenti Col trasporto incluso ad esempio, l'assicurazione, il cavo, l'amministrazione, la fatturazione E magari anche la garanzia di riacquisto E magari anche la garanzia di riacquisto